Ciao ragazzi da Marsala, benvenuti a questa nuova videoguida, questa volta l'avventura si sposta da... Ma sicceroccia nera alla Lega degli Esploratori, questa volta andiamo ad affrontare con un mazzo gratuito, o almeno ci proviamo perché non è un fight facile, il capo tribù Scarvash. Lo affrontiamo con un mago, e la problematica di questo fight è che un turno le vostre magie costeranno 11, un turno i vostri servitori costeranno 11! In realtà va bene iniziare con queste in un certo senso, ma ci vorrebbe la Living Armor, però insomma adesso vediamo un po' come si comporta, il nostro servitore costa 11, quindi niente. Eh, comincia a castare subito, quindi non easy, la situazione non è easy per niente, non è scialla per niente. Eh, non lo so, non lo so, non mi piace per niente questo inizio, le carte che ho, eh, da subito Fiori in mano, quindi insomma da un sacco di danni, direi che, not good, not good at all. No, a mio avviso non abbiamo chance, proviamo, ma... Adesso se mi mette giù anche il segreto è un problema. Ok. Benissimo, in questo momento riusciamo... Eh, penso che però è finita. Finita forse no, ma insomma quasi in realtà. Purtroppo quasi. Quasi finita. Eh beh. Ricominciamo... Quante volte mi avete visto ricominciare ormai su questi fight? Ah... Ok. L'armatura fantasma è in mano, quindi la prendiamo. Dovrebbe anche un voodoo. L'odore... E invece no. E invece no. E invece no. Vabbè. Andiamo un botte zitto. Non l'ho veramente capita. Ed è un peccato che io non ci riesco a fargli fuori. È un peccato questo due, devo prendere... Mannaggia. Cioè, ma pure ho preso per il culo, ho pure preso, capito? No, costano undici. Sveglia, no. Peccato, peccato, perché questa era una buonissima partita. Peccato davvero. Adesso colpisce la spada... Ah... No, colpisce me. Peccato. Sì, va. Adesso questo è stato un rischio veramente grosso, perché non... Poi quando è così non si si gioca. Quando è così non si si gioca proprio. Tutta questa pippa per poi si ammazzare anche regol. Eh, vabbè, eh, vabbè, eh, vabbè, eh, vabbè. Oh, lui ha deciso di trattare, no? Ma l'unica cosa che posso sperare... L'unica cosa che posso sperare è che lui entra a casa a morning storm adesso. No, vabbè. Sì, eh, eh, eh. Io sballo, ragazzi. Adesso ha deciso di... Mano perfetta ha deciso di tradare. A questo punto l'IA decide di tradare. in realtà in realtà come vi dicevo si potrebbe tranquillamente emullicare tutte le partite in cui non ci sta la living armor queste quando vanno così poi non c'è proprio storia non c'è purtroppo i pezzi che ti devi dare sono tanti e li devi incastrare tutti bene se no stavo per fare stavo per premio esc del va bene è già ma giocato al segreto mamma mia va bene che bravura che bravura signori this is the greatest this is greatness dude this is actually greatness 5-3-8 danni a 17 no un po' 17 tanto non ha calato un turno una specie di miracolo tanto bisogna sempre far così adesso ok con calma e sangue freddo con calma e parecchio sangue freddo teniamo duro che dopo teniamo parecchio duro che va bene da voi c'è sta bravura bravo 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 su di me, si, così, si così, così, basta fermateli su di me, su di me, su di me, su di me su di me, su di me su la summoning stone va bene pure la summoning stone, dai va bene pure la summoning stone e via tutto ok, calma la pulitura c'è stata calma, perché ora è il turno turno delle gradure va il bravo me, bravo me, 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 me oppure un ghiacciolino, si un ghiacciolino bravo bravo, bravo figlio, bravo, bravo figlio mia mamma non lo userò mai il coso adesso io non lo userò mai rogzor, si ombra antica bene, nessun problema ok ok che eh non se ne frega niente no, rischio troppo per caso via questa è la fine dovrei con un pie all'almo non pie all'almo ma uno su quale uno su ciclo non pie all'almo no, 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 no ok, vai, 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 vai ok, 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 ok calma ah, devo avuto segretto va bene ok, si, 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 si va bene, va bene tell tu ok buono, 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 buono eh, vabbè che topdecki così smettila di topdeckare ti prego, smettila di topdeckare ok ok stop topdecking, dude please stop topdecking ah, vabbè, vabbè, vabbè vabbè, vabbè, vabbè ancora, in realtà ah, non è il turno delle spellone ah, ah, ah ah, ah anche adesso ne metto sotto cappella però rischio troppo se non faccio maledetto segreto oddio, una sceltaccia non topdeckare spell, non topdeckare spell, non topdeckare spell, non topdeckare spell ok, ok, ok fra forti, fra forti, fra fortissimo alright, alright, alright ok, allora calma tocca fa fuori tutto con il suo fa fuori Allora, senza 3362, questa non la posso considerare, tranne se vado sul troc, qui ci posso andare, qui ci posso andare, qui ci posso andare, qui ci posso andare che non muore. Ma ce n'è talmente tanti di target, non era lì al senno, ok calma, 33628, una fireball, oh shit, 33628, eh no, ma ammazza se non gli faccio il trade sul troc, mi ammazza, di questo è obbligato. Se prego, non tirare la spalla, 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 non tirare la spalla. Zitto che forse eccolo? Zitto che forse eccolo, non tirare la spalla, non tirare la spalla, non tirare la spalla, non tirare la spalla. Zitto che forse eccolo, non tirare la spalla, non tirare la spalla, non tirare la spalla, non tirare la spalla. Allora, ci sono due arciere elfi, due immagini speculari, due tamboturghi voodoo, due dati di gelo, due murloc, cacciamare, due esplosioni e due alide, due torce abbandonate, due armatori fantasma, due elementari dell'acqua, due metamorfosi, due palle di fuoco, due evocatori eterei, due pietre d'evocazione, due signori dei lupi bianchi e due corone di fuoco. Ragazzi, come al solito, se vi è piaciuto mettete un like. Ciao da Marzala e arrivederci alla prossima video guida del secondo boss della seconda ala della riga degli esploratori. Ciao!